Luce del Castegno è la numero 5 di Testiera Luce del Castegno è la numero 5 di Testiera La nostra ribellione alla statistica Un abbraccio per proteggerci dal vento Illusione per confedere col tempo Io non ho la religiosa accettazione della vita Potessimo trovare altri sinonimi del bene L'amore non esiste, esistiamo io e te E saliamo così ufficialmente ad 8 qualificati alle barrage Perché Luca Calabro non sbaglia nulla Per le barrage di Matteo Zero in 32 ed 87 Questa è la chiusura che per ora lo vede come secondo miglior risultato Luca Calabro, Luce del Castegno è il numero 5 Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! cambia il vertice della classifica e adesso è il nome e cognome di Luca Calabro è il migliore di tutti due secondi più veloci rispetto al tempo di Mirko Casadei 32.08 lui realizza 30 secondi e 15